per andare al lavoro e per spostarsi sui mezzi pubblici. Sarà richiesto anche per tram, bus, metropolitane, treni regionali, alberghi e spogliatoi negli impianti sportivi. Gli studenti sopra i 12 anni non vaccinati dovranno fare i tamponi per salire sul bus che li porta a scuola. Per i controlli si attende una specifica circolare dal Ministero dei Trasporti. Infine dal 15 dicembre scatta l'obbligo di richiamo per sanitari, personale scolastico, militari e forze di polizia. La durata del Green Pass si riduce da 12 a 9 mesi. E con noi lo salutiamo Giovanni Leone, presidente di FNOMCEO, che poi è la federazione che raccoglie i medici e gli odontoiatri italiani, insomma la persona che è alla guida di questa organizzazione. E allora, a lei come giudica le scelte del governo? Troppo restrittive, adeguate o cosa? Io penso che sia stata una risposta molto adeguata e ragionata, a frutto anche di quello che è un compromesso politico per quanto riguarda le linee più rigoriste e più possibiliste. Noi abbiamo chiesto in queste ultime settimane, sul fronte di quello che era l'avanzamento dei contagi e sui dati anche degli ultimi giorni dell'Istituto Scuola di Sanità, in cui nelle rianimazioni, nelle terapie intensive, ci sono solo il 7% alla fine di vaccinati e tutti i resti del 93%, tutti quanti non vaccinati, distribuite per quanto riguarda le classi di età. La classe più rappresentata, sicuramente le terapie intensive, è quella tra i 60 e gli 80 anni, seguita da quella subito inferiore e poi dagli estremi banda. Quindi la problematica era, al netto di quelli che sono gli aumenti dei contagi, poter avere anche una possibile economia, parliamo anche di economia, e di ringraziamento per tutti i 47 milioni di italiani che rispettano le regole, che sono vaccinate, che vanno regolarmente al lavoro, che cercano di mandare avanti anche questo Paese e che vorrebbero anche farsi un Natale un po' differente da quello dell'anno scorso, che è stato caratterizzato, come vi ricordate, da una zona rossa intransigente per tante e tante situazioni che sono create proprio in questi giorni e sono evolute proprio durante il periodo natalizio. In effetti molti tendono a dimenticare cosa fu il Natale dell'anno scorso, famiglie separate, difficoltà o impossibilità a spostarsi, i famosi cenoni saltati, e il clima è molto diverso anche dal punto di vista medico, non è vero? Sì, in questo momento siamo in un livello di sicurezza, c'è un decimo di quelli che sono i ricoveri positivi rispetto all'anno scorso, ma naturalmente è anche grazie al vaccino che è stato diffuso, che ci ha dato una protezione, non al 100%, perché sappiamo che i vaccini coprono 92-93% più o meno del range di effetto e quindi ci sono comunque anche delle possibilità di sviluppo di malattie, anche risultati vaccinati. Ma da ciò a mettere in dubbio l'efficacia dei vaccini ne passa e noi ogni giorno speriamo che gli indecisi ci ripensino, in una maniera o nell'altra, anche su base di quella possibilità di fare una vita normale, perché ricordiamoci che noi adesso stiamo facendo al netto delle mascherine e dei problematiche di distanziamento, da quello di affare ovviamente e quello delle genere personale, una vita normale con tutto aperto, tutto anche le discoteche, e quindi è necessario, secondo me, fare un passo avanti come popolazione in generale, come tutta una nazione, verso l'uscita della pandemia. Al contrario di quello che si vede purtroppo nei certi paesi europei, nei mondiali, che hanno un tasso di morte e di pandemia in evoluzione rapida, inversamente proporzionale tasso di vaccinazione, cioè meno sono vaccinati e più nei loro paesi che sono molte volte confinanti, come l'Austria, la Germania e la Slovenia, l'infezione si sviluppa, perché ricordiamoci che siamo in presenza di una variante, della variante Delta, che si è rivelata quattro volte più contagiosa rispetto alla variante originale. Senta, dottor Leoni, lei mi ha dato il via libera ai vaccini per i bambini dai 5 agli 11 anni, finora si potevano vaccinare dai 12 in su. Si tratta di due dosi che andranno somministrate a distanza di tre settimane. Lei che ne dice? Ne sono felice, perché ricordiamoci che abbiamo avuto sempre delle vaccinazioni obbligatorie per l'infanzia che hanno tolto la problematica della mortalità infantile che è estremamente elevata, per esempio, ancora in Africa, per esempio, per quanto rimasta, molbillo, varicella, poliomelite, ma anche la scalattina, la pertinente.